Ilari Blasi si scusa dopo la doccia hot della Rodriguez, ma Zucci Beceri di cui non abbiamo bisogno Nel corso della terza puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 25 settembre, Ilari Blasi ha parlato di quanto accaduto la scorsa settimana Durante la diretta, infatti, è stata inquadrata Cecilia Rodriguez mentre sotto la doccia era impegnata a lavare le parti intime. Ilari Blasi assicura che non succederà più Cecilia Rodriguez aveva appena affrontato una prova in cui si è vista piovere addosso diversi alimenti, tra cui seppe e trippa Così, dopo il gioco e mentre la diretta era ancora in corso, la modella si è affiondata sotto la doccia. Involontariamente, è stata immortalata mentre spostava gli slip per lavare le parti intime. Ilari Blasi si è scusata per laccaduto Nella scorsa puntata è andata in onda uninquadratura particolare. Purtroppo è un programma in cui avviene tutto in diretta Di certo non abbiamo bisogno di ricorrere a questi mezzucci beceri. Mi scuso sia da parte mia che da parte della produzione, non succederà più. Il Moige contro il Grande Fratello Vip La scena andata in onda in prima serata ha fatto storcere il naso al Moige. In un comunicato diramato dallAssociazione si legge E' inaccettabile e diseducativo. Assistiamo ancora una volta a un'esplosione di indecenza, volgarità e disprezzo. La scena di Cecilia Rodriguez impegnata nell'atto di lavarsi le parti intime, trasmessa in diretta televisiva, è offensiva e lesiva della privacy. Non riusciamo a comprendere come i vertici di Andemol Scine, che fortunatamente realizza anche prodotti positivi, possano accettare programmi così scadenti, di tale squallore e bassezza culturale, offensivi per la dignità di tutti gli spettatori adulti e minori che siano. Ci auguriamo che le aziende evitino di inserire i propri spot nella prossima edizione, che non merita di essere nel palinsesto di nessuna rete tv. Per tali ragioni, procederemo a denunciare il programma all'Agi come chiediamo con forza al governo di ricostituire il Comitato Media e Minori, che da troppo tempo non viene nominato. Belen commenta la doccia hot di Cecilia. Belen Rodriguez ha ricevuto il tappiro da Valerio Staffelli proprio per le polemiche sollevate dalla doccia hot di Cecilia. La showgirl argentina ha commentato. Il momento è stato un po' disgraziato. Almeno per lei, meno per i maschietti che guardavano. Ha aggiunto, inoltre, che era un'inquadratura facilmente evitabile. Penso che non dovessero inquadrare proprio lì. Grazie a tutti.